Siamo al calcio in Serie B, dopo il 3-1 incassato ieri a Vicenza per i grifoni, si apre un periodo particolarmente delicato e la tifoseria bianco-rossa si mobilita e contesta la squadra. Luca Pisinicca. Siamo al calcio in Serie B. Siamo al calcio in Serie B. Siamo al calcio in Serie B. Siamo al calcio in Serie B.